bello a tutti ragazzi sono aron e come potete vedere questa volta siamo qui con una maglia americana con questa muscle car su gta 5 naturalmente e allora iniziamo subito siamo già qui pronti sul salto vediamo se riusciamo a sgommicchiare guardate 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 mi sento tony hawk tony hawk e tony hawk ragazzi mamma mia eccoci qua ragazzi iniziamo subito col botto con questa zentorno mamma mia siamo in gara siamo più di 50 miliardi di persone mamma mia 3 2 1 ready for the room si parte mamma mia guardate la gente che gara ragazzi qua i peggio stronzi ci sono infatti uno è già andato fuori uno che piglia il volo oh mio dio oh mio dio oh mio dio con calma con calma pigliamo la scia di quello rosso oh mio dio quelle moddata capottana merda ah dai 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 riprendi riprendi ah che cazzo non sapevo che era era moddata la mappa vaffandere eccolo qua eccolo qua sì 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 ci siamo ci siamo ragazzi ho sbagliato a prenderla no no è giusta oddio il treno perfetto eccolo là quello lì si è incidentato questo deve farlo stronzo perché ce l'hanno con me tutti oddio eh grazie che mi hai rimesso in carreggiata mamma mia ragazzi che che partita che gara più che partita attenzione attenzione ok con calma ti nella dritta perfetto eh ragazzi abbiamo iniziato subito col botto questa questa partita è già che la gente spinge no 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 come si è fatto andare in pista oh mio dio non mi ricordo più non mi ricordo più cazzo ragazzi affanculo era ypsilon incredibile siamo tredicesimi non sapevo neanche come oh mio dio però brutta brutta gara ragazzi abbiamo fatto quell'incidente che c'ha l'incidente che c'è che siamo usciti di pista e ci ha tagliato un po le gambe oh mio dio no non di nuovo porcappa eh mio dio ribaltati ribaltati siamo addirittura dodicesimi oh mio dio eravamo dodicesimi ragazzi ci sono passato questo qui all'ultimo vediamo se riusciamo almeno ad arrivare dodicesimi speriamo sì 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 forse sì perché quello si è incidentato mio dio facciamo un trickshot no meglio di no perché sennò finiamo che non la finiamo sta gara decimo quanto manca alla fine dai dai che la finiamo che palle voglio rifarla però sta gara oh mio dio guarda dove la fine oh mio dio la fine e facciamo un po i ladruncoli però ragazzi se no e madonne via 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 dai porca la putzenna eccolo lì perfetto ragazzi ci siamo siamo in carreggiata ok ok seguiamo la scia attenzione che questa è una mappa un po incasinata difficile questa 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 gara erca putteina vedete a fare i furbi cosa succede a fare i furbi succede proprio questo però siamo noni dai speriamo perlomeno di arrivare un po olè oh ma che cazzo ma dai ma sempre a me mi saltano in testa cioè riuscito pure a staccarmi quello la cioè mi è saltato in testa riuscito pure a staccarmi fantastico fantastico per fortuna che ha sbandato anche lui porca trova adesso lo prendo lo faccio saltare in aria con la merda ah ciao bello ci vediamo coglione intendo abbiamo siamo saliti di livello eccolo lì la fine ragazzi eccolo lì stacchiamo ce n'è uno che forse non è arrivato su dai 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 vai quanto siamo settimi perfetto dai a metà metà buona come gara buona come gara ok ragazzi è finita questa gara epica io direi di andare a vedere un attimino aspettate intanto saremo in auto e andiamo a vedere togliamo la radio attenzione attenzione copyright copyright ok e andiamo a vedere su internet se hanno aggiunto qualche veicolo perché avevo visto aspettate dov'è dov'è qua ah no leggenda di motorsport mi sa che sono le moto le moto le auto si quelle un po' più sportive questa qui guardate che fighe ma queste qui le avevamo già viste l'altra volta quindi si 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 allora però andiamo a vedere di qua invece 400.000 dollari oh mio dio aggiornamento non sono un hipster attenzione parte dello special independence day guardate che figata la moto la moto quella della polizia con la mimetica oh mio dio questa 85.000 ragazzi che che oh mio dio che figata i veicoli mamma mia sballosi sballosi questi invece sono i soliti niente ok allora andiamo un po' in giro a vedere un po' se troviamo la gente ok ragazzi non ho trovato nessuno perché comunque un server che non c'è c'è un po' di che non trovo mai gente nei server comunque questo è il mio garage non so se l'avevate già visto la casa è quella più costosa che c'è in gta per adesso poi non lo so se aggiungeranno quindi niente ragazzi è stato un video breve su gta spero che vi sia piaciuto ne arriveranno altri naturalmente e vi ricordo di seguirmi perché ci saranno diciamo dei piccoli video anche su gta su pc spero che esca al più presto così potremo godere della grafica anche su pc e quindi niente se il video vi è piaciuto vi iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video bella